Le associazioni ambientaliste rispondo che trovo la loro considerazione condivisibile. La selva del Ponte Varano, la selva Severini come si chiama, è un unicum che giustamente come viene richiamato dalle associazioni ambientaliste debba essere mantenuto nella sua integrità e c'è un rischio con questo bando che possa essere spezzettato. Quindi raccolgo questo invito, questa sensibilizzazione, ma devo dire che già da giorni insieme al Presidente ci siamo sentiti con il Presidente della Fondazione, Carifano, che lo stesso ha manifestato sensibilità in tal senso, posso anche dire che anche qualche privato ha manifestato un in particolare interesse a essere della partita e fare la propria parte, quindi pur nella sua complessità e con la delicatezza che ci deve essere in questi casi, penso di poter dire che vogliamo raccogliere questo invito e quindi fare in modo che quella parte rimanga tale e possa diventare anzi un punto di riferimento anche coinvolgendo le associazioni ambientaliste. Ecco, c'è un insieme di soggetti, come dicevo i giorni scorsi sono stato contattato proprio perché aveva raccolto questa sensibilità anche il Presidente della Fondazione, quindi un ragionamento che possiamo fare insieme.